Buongiorno a tutti mi permetto oggi di condividere una riflessione molti colleghi artigiani mi chiedono se votare oppure no alle elezioni per il parlamento europeo di sabato e domenica prossimi 8 e 9 giugno io rispondo semplicemente assolutamente sì andiamo a votare per la costituzione italiana il voto è un diritto ma anche un dovere civico le sfide globali richiedono ahimè o per fortuna un'europa forte legittimata dal voto dei cittadini europei questioni come la crisi climatica le migrazioni le guerre ahimè che vediamo in questi ultimi periodi l'intelligenza artificiale la tenuta stessa del nostro sistema produttivo non possono essere affrontate con successo dai singoli stati nazionali se consideriamo oltretutto che una buona parte della legislazione italiana e ormai di derivazione europea diventa importante eleggere chi siederà nel prossimo parlamento europeo abbiamo la possibilità di scegliere con il nostro voto facciamolo sabato e domenica è doveroso andare a votare non importa chi votare ma è fondamentale riuscire a esprimere un proprio una propria preferenza ricordo che sul nostro sito cna treviso punto it trovi tutte le proposte della cna ai candidati per interventi a favore del mondo artigiano della piccola media impresa chi risederà al parlamento dovrà cercare di tarare tutta la normativa che futura sulle nostre realtà che sono diverse dalle realtà europee noi abbiamo tessuto produttivo che si basa sulla piccola e micro piccola media impresa quindi è fondamentale che ci sia qualcuno che possa aiutare e far sì che le leggi siano anche tarate sulle nostre dimensioni aziendali vi ringrazio buona giornata e buono voto a tutti